Salve a tutti amici di YouTube, qui Mickey Perfect 96 che vi parla e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlare e discutere con voi dell'uscita della Maximum Gold Edition, visto che finalmente abbiamo più o meno, anzi, abbiamo il spoiler completo dell'uscita e tra l'altro ci sono già dei video in giro che potete benissimo andare a vedere riguardante l'apertura. In questo video voglio elencarvi i miei pensieri e ne discuteremo insieme. Prima di iniziare vi volevo invitare a lasciare un bel mi piace, un commento, iscrivervi al canale se non l'avete fatto, per sostenere il mio canale. Bene ragazzi, innanzitutto parliamo generalmente di questa espansione che comunque vede un'edizione speciale composta credo da quattro buste, con all'interno alcune carte in gold, credo un paio, più delle carte rare con il titolo dorato, diciamo più o meno è questa la composizione, comunque un po' diversa rispetto a quelle del passato, però generalmente vediamo questa espansione come un reprint, come diciamo è di tradizione, di alcune carte molto importanti, ma al tempo stesso veramente una presenza di carte fuffa, se vogliamo dire così, che veramente ci fanno chiedere ma perché queste carte sono presenti dentro un'espansione del genere. Quelle che vedete davanti sono le carte che usciranno con la rarità gold, una rarità anche rivisitata, resa con la foilatura un po' in rilievo, quindi resa più bella. Vi salta subito all'occhio comunque che c'è la nuova art di Stratos, poi abbiamo il Roll and Lock Board, abbiamo tutte le Entrap di livello 3, quindi abbiamo anche la Ash, che aveva comunque un discreto prezzo fino ad allora, poi abbiamo Nibiru, il Golden Lord, altra carta molto interessante perché comunque era solo di rarità alta, Spolverino dell'Arpia che fortunatamente è stata reprintata e ce ne voleva assolutamente perché aveva raggiunto dei prezzi abbastanza alti, e poi carte simpatiche, abbiamo Giudizio Solenne, abbiamo la Trappolina in Permanence, abbiamo il Metal Archer, ci sono tantissime carte comunque che sono abbastanza carine, anche il Borre, lo vedete in fondo, per non parlare del Link dei Phantom Knight e della Pollusa, Beatrice, Roba Zodiac, però mi voglio soffermare su questa faccenda delle carte fuffa perché se le Gold comunque sono abbastanza buone, cioè nel senso comunque in un'edizione speciale per quel che mi riguarda le possibilità di trovare roba buona comunque ci sono relativamente. Questa espansione poteva essere veramente eccezionale, però a mio parere si è voluta fermare un po' sul buono distinto, si è voluta accontentare, forse per non distruggere troppo un mercato che ha visto investimenti importanti nel passato dei giocatori che non hanno potuto a dei tornei in Real far comunque giocare mazzi per la quale ci hanno voluti molti soldi, quindi sicuramente la Konami su questo ha voluto tutelare dei giocatori che avevano speso un po' di soldi, però ci mette in mano tutta la roba che serve per contrastare o comunque per andare contro questi mazzi, quindi scuse non ce ne sono più, l'ash c'è, c'è la trappolina, c'è lo spolverino, c'è il Nibiru, c'è di tutto, quindi veramente non possiamo lamentarci su questo. Però ragazzi vedete, Blue Ice, Dark Magician, Red Ice, Cosmo Dark Destroyer, ma io mi domando cosa diavolo servono queste carte, non è possibile una roba del genere, io me lo sono chiesto ma non riesco a trovare una risposta. Queste invece ragazzi sono le rare, io vedrò di mettere lo spoiler qui giù nella descrizione, nelle rare troviamo comunque la storia di Yu-Gi-Oh, troviamo un po' di tutto, troviamo le tre Foolish, troviamo roba Mecha, troviamo la roba Magi Dolce, troviamo roba Trap Tricks, Fire Fist, Nobel Knight, Monarch, GK, Dark Lord, c'è un po' di tutto, un po' di mistume. I Xyz comunque una volta abbastanza interessanti, c'è il 101, c'è il 74, c'è il numero 15 se non sbaglio, il C107, c'è carte che forse queste reprinte servivano più tempo fa rispetto che adesso, però comunque nulla di relativo valore se posso permettermi, a parte qualche mistake che arresta la roba mistake, error, quella roba lì, non è che sia roba veramente appetitosa a mio parere. E questa è la parte delle rare, che viene seguita naturalmente da una seconda parte più cospicua, perché le rare sono molte di più, e qui abbiamo tutte le statuine, poi ragazzi vedete anche voi, c'è il graffa, roba che veramente, Prison, Call by the Grave, che oramai sono state toccate, limitate, ci sono in tutte le salse, ecco sicuramente io mi sarei aspettato magari qualche reprinte di qualche carta che ancora sta ad alti prezzi, ma non vengono neanche tanto giocate, io speravo nella Pot of Extravagance per dire, perché comunque costa ancora una ventina di euro, io ce l'ho sperato ma non è andata a buon fine, comunque sia c'è anche l'Invoker, c'è la sua spell, cioè voi vedete ragazzi, questo è quello che andiamo a trovare. Carte interessanti ce ne sono, sì, ma ce ne sono altre tante che io onestamente non saprei cosa farmene, io naturalmente due ve ne porterò, perché ho un interesse comunque a fare un video per voi, però ragazzi personalmente dipende anche da quanto riuscite a reperirla, perché un pezzo del genere dipende anche da quanto lo pagate, io credo che questa edizione speciale qui, bene o male, nei negozi che non fanno prezzi popolari a mercato, cioè guardando veramente il mercato com'è, ve la spareranno a 25-30 euro. Per un prezzo simile io onestamente non ce li spenderei questi soldi. Bisogna vedere quanto varranno le carte al loro interno, però io mi fionderei più sul comprare le singole che servono veramente, perché qui di roba che non serve, ragazzi, ce n'è tanta, tantissima. Personalmente, anche se ci sono carte che una volta valevano abbastanza, comunque sono carte che bene o male abbiamo avuto, cioè comunque possiamo reperire molto facilmente. Anche roba come il Jar Gigant, il Rank delle RP, il Gangaridai, il Drago Sack, cioè sono cose che uno dice ma perché ne avete messe? Quindi questo è il mio pensiero, ragazzi, essenzialmente. L'espansione in sé per sé è buona, perché comunque ci sono buone carte, però come già detto ce ne sono altrettante che mi fanno dire che il consiglio migliore che vi possa dare è secondo me quello di fiondarvi più sulle singole, anche se la voglia di aprire è sempre una cosa assurda. Io, ragazzi, ho concluso qui il mio discorso, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, naturalmente io ve ne porterò un paio, poi mi fionderò sulle singole anch'io, però questo è il consiglio che mi sento di darvi. Se riuscite a reperirla intorno ai 20-22 euro, allora può valerne la pena, però se come penso queste uscite in negozi magari non specializzati arrivano anche i 30 euro. Veramente è un acquisto che io non consiglio. Per il resto trovate lo spoiler in descrizione, cercherò di mettermelo. Ho già pronto un box di Phantom Rage, quindi spollicciamo questo video, vediamo se riusciamo a fare un bel numero e ci si vede alla prossima. Un saluto a tutti quanti voi da Mickey Perfect, un'ata 6. Ciao!